Lo sapevate che lo ZODI 105 è un programma demenziale? Ehi, com'è? Stava io prima. Lo sapevate che lo ZODI 105 è un programma molto spirituale? Ingegnere, cosa c'è? Siamo nervosi oggi? Lo sapevate che i ragazzi dello ZODI 105 hanno solo una cosa in mente? In onda! Lo sapevate che lo ZODI 105 è un programma altamente diseducativo? E lo sapevate che la nuova stagione dello ZODI 105 riinizia martedì 29 settembre alle 23.15 su Comedy Central?